Questo mosaico rappresenta proprio la Madonna di Castelmonte. La struttura dell'attuale santuario, dove c'è la chiesa sopra e c'è una bella cripta sotto con un fatto molto interessante. Questo sguardo di Maria che ci accoglie in questo santuario ci dà il nome benvenuto e ci invita ad entrare a vederla di persona. Grazie.